Per il rimpasto alla giunta regionale è stato fatto il suo nome? Sono giornate in cui i nomi si fanno un po' per tutti gli incarichi. Al momento mi pare che la situazione politica sia in costante movimento sia a livello nazionale che ad altri livelli per cui io faccio tranquillamente e serenamente il lavoro per il quale i fiorentini quotidianamente mi pagano e poi staremo a vedere. Ma al di là delle voci c'è stato qualche contatto? No, per quello che mi riguarda no.